Molto veloce e senza tanti festeggiamenti, è un momento così importante nella vita professionale meritasse una tornice un po' più degna e una celebrazione. Sono operativi, sono operativi, un ringraziamento e poi un augurio di filmo, perché insomma noi è un mistero che facciamo, siamo un giudicatore, per loro l'hanno già passato in mezzo evidentemente e ancora oggi quando arrivano i riusciti a avere letto ad un... ...professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, con onore e dirigenza i doveri della professione di avvocato. ...so che è un certo profilo. Io quando ho visto il giornamento, oh il dubbio non l'avevo ...doltre vedi la sua funzione, mi impegno ad osservare con i nostri amici. ...doltre vedi la sua funzione, mi impegno ad osservare con i nostri amici.